E' uscito questo mese, finalmente, perché molti appassionati, tra cui il sottoscritto, lo aspettavano veramente con trepidazione, questo manga che si chiama Blue Lock. E' un manga, teoricamente, di calcio, ma rispetto ai tanti manga sportivi che trattano di squadre che giocano a pallone, oppure di super, iper, mega geni del calcio come Olly, o come Benji, o come Mark Landers, e che fanno, soprattutto, della forza del collettivo il loro punto nevralgico della storia, per cui tu hai, sì, magari il campione che cerca di portare la sua squadra ai vertici della classifica, magari, del campionato nazionale studentesco o proprio del campionato di calcio, pensiamo, per esempio, anche a quel gioiello che è Giant Killing, Blue Lock parte con un assunto totalmente diverso. Perché, mentre tutti gli altri Spokon esaltano proprio la grandiosità del gioco di squadra, perché il calcio è, rimane sempre, un gioco di squadra, il singolo può essere lo Tsubasa di turno, può essere il Maradona di turno, può essere il Messi, il Cristiano Ronaldo, ma tutto sommato, tutto sommato, è il collettivo che fa vincere il campionato, sì, il fuoriclasse ti può far vincere la partita, ma è la squadra, come anche diceva Sacchi, se vi ricordate, Sacchi diceva che il singolo non può mai essere più importante del collettivo, è il collettivo, ciò che davvero conta nel calcio, Ebbene, Blue Lock capovolge totalmente questa visione. C'è, infatti, un tipo della federcalcio giapponese che, dopo aver visto tutti i risultati della nazionale del Giappone degli ultimi anni, decide che il Giappone deve fare un salto di qualità. Come fare? Come fare per fare in modo che il Giappone diventi una delle più grandi superpotenze non solo asiatiche del mondo del calcio, ma del mondo intero? Semplice, selezionare quelli che sulla carta, statistica alla mano, possono ambire a diventare i più grandi attaccanti del Giappone, metterli tutti insieme e fondamentalmente creare una sorta di torneo Tenkaichi ad eliminazione dove, di volta in volta, emergeranno solo gli attaccanti più forti fino a che non ne resterà soltanto uno. Quell'uno sarà naturalmente il più grande degli attaccanti perché, se l'assunto è il collettivo vale più del singolo, e in realtà, quando si parla dell'attaccante, inteso proprio come figura, perno centrale di colui che deve segnare e che quindi deve portare la squadra in vantaggio e poi alla vittoria, l'attaccante deve essere quello più ostinato, deve essere quello più egoista, se ne deve fregare altamente del gioco di squadra, deve solo avere una cosa in mente, segnare, segnare, segnare. E quindi viene creato questo programma dove 300 giocatori, tra i più importanti del panorama giovanile giapponese, vengono testati per provare a scegliere quest'unico giocatore. Nel corso del fumetto, tutti questi giocatori vengono sì messi l'uno contro l'altro, ma poi, in base anche alle loro caratteristiche tecniche, agonistiche, psicologiche, vengono messi di volta in volta in squadre diverse per esaltare alcune loro caratteristiche singole. In realtà, piccolo spoiler, sì, Pippo Inzaghi, vogliono scegliere il Pippo Inzaghi del Giappone, è veramente così. Piccolo spoiler, che non vi inficia la lettura, ve lo prometto, nel caso mutatevi, ma davvero è uno spoiler che non inficia. In realtà, questo procedimento serve per far capire ai giocatori quali sono i loro veri, grandi e unici punti di forza, perché ogni giocatore, naturalmente, è diverso dagli altri, e quindi cercare di creare quella che è veramente una selezione d'elite con ogni singolo giocatore che è in grado di capire quali sono le sue potenzialità e come esprimere quelle potenzialità sul campo. Rispetto a tutti gli altri Spokon, Blue Lock è veramente un fumetto molto atipico, perché prende in prestito, per esempio da Capitan Tsubasa, o da Giant Killing, o anche da Oashi, una visione da una parte strategica del gioco del calcio, quindi i giocatori devono capire strategicamente e tatticamente come si devono muovere in campo, soprattutto perché, dato che, anche se sono nella stessa squadra, ogni giocatore è come se facesse squadra a sé, perché deve uscire fuori rispetto agli altri, prende anche tanto da Capitan Tsubasa, prende tanto dall'esasperazione di Capitan Tsubasa, però c'è da dire che le partite sono molto belle, sono divertenti, più si va avanti, quindi più i giocatori vengono scremati nel corso della storia, più saltano fuori, veramente dei calciatori fuori di testa, alcuni con dei background e delle backstory allucinanti, c'è uno, ve lo giuro, è Hannibal Lecter, lo tengono rinchiuso, questo è proprio pazzo, però è uno dei giocatori più forti in assoluto, ma lo devono tenere proprio fermo, incatenato, io ve lo consiglio come fumetto, perché, è sì una scionenata, è sì una scionenata, ma tenendo conto proprio di tutto questo assunto particolare, si discosta da tutti gli altri manga di calcio che possiate mai leggere, per quanto poi alla fine in realtà converge sempre nella stessa cosa, ovvero il collettivo è ciò che è più importante, quindi alla fine è una scammata, ma nonostante questo è molto divertente. L'ultima cosa su Blue Lock che vi voglio dire è che è un fumetto particolare, che ha della sua atipicità il suo punto di forza, però naturalmente ci sono altri fumetti di calcio che sono secondo me più belli, Giant Killing 50 spanne sopra, ma anche Days 10 spanne sopra, ma lo stesso Aohashi 5 spanne sopra, però Blue Lock è molto particolare, da questo punto di vista, quindi recuperatelo perché è proprio divertente, nel senso pieno del termine, ve lo leggete, vi divertite, dice, ah bello, questo sembra a un certo punto un battle manga su un campo di calcio, diventa così, figo. Si è rotta l'improvvisazione con atipicità, esatto, vabbè, lo taglio, si taglia, si taglia, l'editing serve a questo, avevo fatto un video a Natale su Blue Lock, ma poiché è uscito in Italia, mi sa che domani mi tocca fare il fake contenuto, cosa ne penso di Blue Lock? Per la gioia sia dell'algoritmo, ma soprattutto del mio portafoglio del mese di luglio per YouTube, così almeno la gente è contenta, oppure potrei fare un'altra cosa più simpatica, faccio dieci minuti adesso di fake vlog con voi, poi domani lo taglio, e lo ricarico su il canale YouTube, così siamo tutti contenti, potrebbe funzionare così. Domani taglio questo pezzo, lo metto su YouTube, e così non devo caricare un altro, non devo, non devo registrare il video, evviva me.